Le interpretazioni dell'imperialismo Allora, abbiamo detto nella scorsa lezione che l'imperialismo è questo fenomeno di conquista e spartizione dell'Africa e dell'Asia a fine ottocento da parte delle vecchie potenze coloniali con le Francia e Inghilterra e delle nuove potenze coloniali come Germania, come Belgio, come Italia, di potenze anche extraeuropee quali gli Stati Uniti, la Russia e il Giappone. Questa conquista, in modo particolare dell'Africa, che avviene con una vera spartizione a tavolino stabilita anche da conferenze europee che si tengono, ad esempio quella di Berlino, guidata e capeggiata da Bismarck questa spartizione avviene in maniera rapida, in maniera violenta e caratterizza una nuova fase del colonialismo europeo il colonialismo europeo è iniziato con la scoperta dell'America, ha una lunghissima, ahimè, tradizione ha una lunghissima poi incidenza sulla storia dell'umanità, nella storia dell'umanità ha condizionato i rapporti tra l'Europa, l'Occidente e l'altra parte del mondo sono rapporti chiaramente politici, economici, culturali, sono rapporti spesso appunto violenti di conquista, di soprafazione. Questi fenomeni, questo fenomeno in particolare dell'imperialismo ha avuto diverse letture, diverse interpretazioni e oggi ve ne presento alcune. partiamo da un'interpretazione economica e vi prendo due autori, Hobson, un politico economista americano e Lenin. Partiamo da Hobson, Hobson dà un'interpretazione economica dell'imperialismo, ovvero l'imperialismo è quella fase economica di fine ottocento, prime del novecento, caratterizzata dall'espansione delle nuove potenze capitalistiche, delle più vecchie potenze capitalistiche verso i mondi nuovi per prendere materie prime. C'è la necessità di accapparrarsi materie prime indispensabili all'interno del ciclo produttivo. Dunque, secondo Hobson, l'imperialismo ha una natura economica. Le nuove potenze economiche capitalistiche, quali il Belgio, quali la Germania o le più antiche potenze capitalistiche di origine, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, hanno bisogno di materie prime, hanno bisogno di rotte commerciali, hanno bisogno di conquistare aree del pianeta da inserire dentro il ciclo economico, da inserire dentro il ciclo economico, che è un ciclo economico di produzione di merce, di allocazione di merci, è un ciclo economico finalizzato alla realizzazione ovviamente del profitto, della massimizzazione del profitto, che è tipico delle economie capitalistiche, che non è più un'economia di sussistenza, dunque merce che ha un valore di scambio per avere altre merci, ma un'economia del tipo, ho del capitale, produco delle merci, voglio ancora più capitale. Per avere ancora più capitale, per produrre sempre più merci, ho bisogno di materie prime e avrò bisogno anche di mercati su cui scaricare prodotti in sovrappiù, insaturazione nel mio mercato nazionale. Dunque un'espansione economica per avere nuovi territori da cui estrarre, portare via materie prime, per avere nuovi territori, nuove aree economiche su cui fare, in cui farà anche confluire prodotti e merci in eccedenza. A questo intervento di Hobson facciamo seguire quella di Lenin, Lenin sarà uno dei leader del partito bolscevico-russo, il padre della rivoluzione sovietica, rivoluzione comunista, di cui quest'anno ricorrono i cento anni, su cui ci torneremo chiaramente nelle prossime settimane. Vladimir Ilyich Lenin, nella sua riflessione sulla guerra e sull'imperialismo, ci dice che l'imperialismo che porterà alla guerra, è la fase nuova del capitalismo, la chiamerà appunto una fase suprema del capitalismo. Il capitalismo, che si è affermato dalla rivoluzione agricola e industriale in Inghilterra, che si è realizzato grazie all'accumulo di capitale in Inghilterra attraverso il vecchio colonialismo, il capitalismo, nuovo modello economico-sociale dominante nell'Europa e nell'Occidente, ha una nuova fase, una nuova fase in cui, vive una nuova fase, fase in cui i confini nazionali vanno superati, perché? Perché la produzione interna ha raggiunto livelli di saturazione, cioè i mercati si saturano, cioè le persone che possono comprare quei prodotti appunto prodotti dall'industria sono state raggiunte, sono state appunto saturate. Quella media borghesia che può comprare quei tipo di prodotti non può più comprarne e quel tipo di, quella par di popolo, di polterrato che può comprare altri prodotti non ne può più comprare, dunque bisogna andare oltre i mercati nazionali per conquistare nuovi mercati, ma in modo particolare bisogna conquistare nuovi mercati, simile a quel di Hobson, per produrre, per trovare, recuperare, conquistare nuove materie prime che permettono di aumentare la produttività ma anche di abbassare il costo di produzione. Dunque, ripeto, secondo Lenin, l'imperialismo è una nuova fase del capitalismo, di un capitalismo che è nato dentro il confine nazionale, Inghilterra, Francia, Germania, Belgio, ma che ora per superare la crisi di sovra produzione che avviene negli anni 70 e l'800, per superare la saturazione dei mercati, per saturare dunque la recessione, per superare la recessione deve andare verso nuovi mercati, verso nuove aree, dunque va alla conquista di nuove aree da poter appunto conquistare, in cui poter allocare nuovi prodotti, costruire degli imperi da inserire dentro il ciclo di produzione che è anche ovviamente un ciclo di veda di prodotti, oltre che di produzione di merci. Ma questo ciclo produttivo che va rinnovato, questo ciclo di produzione di merci che va rilanciato, deve prevedere anche un modernamento della produttività, l'utilizzo di nuove energie, di nuove materie prime che vanno prese, portate via, che vanno depredate dei paesi, nelle aree, dai popoli che le possiedono. Dunque il capitalismo si fa imperialismo, cioè conquista di aree del pianeta a cui sottrarre materie prime. Dunque il capitalismo porta con sé la violenza e Lenin dirà che per far questo le imprese hanno bisogno, i gruppi capitalistici, di nuovi alleati, le banche e soprattutto i governi. Banche che finanzino la nuova svolta industriale, banche che finanziano questi nuovi cicli produttivi, siderurgici, metallurgici, anche economia di scambi internazionali, ma anche degli stati che supportino queste imprese e queste banche. Dunque lo Stato si fa alleato dei gruppi capitalistici e va lo Stato alla guerra imperiale anche per conto, dire a Lenin, dei gruppi, dei gruppi di siderurgici, metallurgici, di automobili, dei gruppi di produzione di energia, dei gruppi di estrazione, delle compagnie commerciali di prodotti alimentari o di prodotti di abbigliamento. Cioè nuovi mercati, nuove aree da conquistare per rirobustire un ciclo produttivo, un ciclo di sviluppo capitalistico che nelle confini nazionali è entrato in crisi. Ecco un altro passaggio della globalizzazione dentro cui voi vivete. La globalizzazione nasce con la scoperta dell'America, la conquista, il saccheggio di quelle aree, nuove rotte commerciali tra cui quelle schiaviste. Questa è un'altra tappa, perché non è solo più una conquista di rotte commerciali, ma di vere e proprie aree del paese. L'Africa, il Congo, lo Zimbabwe, vorrà dire completamente il Sudan, il corno d'Africa, vuol dire la parte della Nigeria, del Senegal. Vorrà dire per gli americani andare nei Caraibi, soppiantare i spagnoli e dare vita ad esempio alle industrie dello zucchero, della barbabietro, della canna da zucchero, degli agrumi, dei frutti tropicali. Cioè aziende che arrivano lì e mettono le radici lì, fanno lavorare i lavoratori, li pagano poco e portano poi dopo la frutta in Florida, in California, che sono già ricche di frutta ovviamente, ma è un passaggio, uno step in più dello sviluppo capitalistico. Leni, imperialismo, fa il supremo del capitalismo e ci porterà alla guerra. Perché quando gli interessi degli stati al servizio dei gruppi capitalistici collimano, si arriverà alla guerra. Francia contro Germania, Inghilterra contro Austria, contro Germania, Russia contro Germania, Stati Uniti contro Germania. Quando gli interessi collimano nell'imperialismo, si giunge alla guerra. Interpretazione economica, uno. Seconda interpretazione, la seconda interpretazione è l'interpretazione di tipo politico. Va bene? Un politico. Cioè, eh? Sì, la possiamo accumulare, no? Sintetizzare. Un'interpretazione di natura politica, anche Schumpeter ci dice qualcosa di importante su questo tipo di interpretazione. Interpretazione di tipo politico cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci troviamo, che è poi anche un'interpretazione che possiamo attribuire allo stesso Bismarck, dell'interpretazione politica. Secondo l'interpretazione politica, gli stati si fanno imperi per l'egemonia politica, per essere più potenti. Avere l'impero significa esprimere la propria volontà di potenza, significa essere grandi potenze a livello politico-militare all'interno dello scacchiere internazionale. Dunque la conquista imperiale dell'Africa, l'espansione imperiale verso l'America Latina, degli Stati Uniti, l'imperialismo e la conquista dunque neocoloniale del Giappone verso il Pacifico, della Russia, verso il Mar Nero, verso il Caucaso, rispondono non a logiche economiche soprattutto, secondo queste interpretazioni, ma a logiche politiche. Possedere l'impero significa far parte delle grandi potenze. Allora il Congo belga è figlio delle volontà di Leopoldo II di possedere l'impero, oltre che di sfruttarne le risorse minerali, diamanti. Ma significa che anche il Belgio vuole sedere al talo delle grandi potenze e poter dire di avere un impero. Dunque avere navi, avere le prime corazzate di inglesi, di americani, che solcano il mare del mondo, l'oceano Pacifico, Atlantico, il mar Mediterraneo, l'oceano muscoloso, avrai una capacità di trattare, di contrattare più alta. Dunque risponde a volontà politiche, diventare la Machiavelli dunque. Vogliono essere dei principi più forti gli stati. Lo Stato di Machiavelli è il principe, forte come un leone, tutto come una volpe. Potremmo dire che l'interpretazione imperialismo, dell'imperismo politica, risponde all'idea della forza di Machiavelli come un leone. Cioè essere forti come un leone di Machiavelli diventa per gli stati fino all'Ottocento essere degli imperi. E Osbaum, qua, chiama appunto questa età l'età degli imperi, in cui l'Italia voleva l'impero, voleva il posto al sole, il Belgio va l'impero, l'Austria l'impero, la Germania l'impero, l'Italia l'impero, la Russia l'impero, il Giappone l'impero, per essere potenze, per incutere timore. E l'impero muscoloso vuol dire armi, armi, navi, navi, blindati, vuol dire soprattutto obici, bombe, vuol dire mitragliatori. Tutti si armano per essere delle potenze, ma sapete che armarsi significa di fatto prepararsi alla guerra. Tendenzialmente, cioè toccando la pace perpetua, quando uno Stato si arma più degli altri, penserà di risolvere quel conflitto con la forza. Esattamente come a un certo punto alcuni di voi sono stati molto più forti, molto più muscolosi, c'è una discussione sotto il parco e quello più forte cosa decide di fare? Di risolvere dando un cazzotto agli altri. Ok? O quello che madri hanno trovato di maggior grandezza, peso e forza, quando si va a discutere usa la forza. Quando ci si arma e ci sono delle crisi internazionali, il tentativo, la tentazione è quella di andare alle armi di quello che avverrà nella Prima Guerra Mondiale. E' chiaro, interpretazione politica, la causa scatenante è la volontà di potenza politica, di egemonia, di grandeur, usando un'espressione francese. Terza e ultima interpretazione di questa serie di letture che vi do alla serie di oggi è un'interpretazione di tipo culturale, cioè alla base dell'imperialismo vi sono sì fattori economici, sì fattori politici, ma vi sono anche fattori culturali che hanno fatto sì che l'uomo bianco, l'europeo, l'occidentale ancora una volta decidesse di andare a conquistare il mondo con l'idea di essere civiltà, cultura, razza superiore. Sono gli anni del razzismo, il marchese de Gobineau ha pubblicato un saggio sulla razza in cui sostiene che esistono le razze e le razze hanno delle caratteristiche psicofisiche ben diverse. Allora ci sono i bianchi che hanno una corporatura equilibrata, hanno un cranio che contiene un cervello che non sobbalza ma un cervello funzionale, abbiamo i bianchi che hanno dimostrato agli europei di aver sviluppato religioni, stati, culture secolari di grandezza e abbiamo altre popolazioni che sia fisicamente che culturalmente dimostrano inferiorità, la forza fisica brutta ma lo scarso intelligenza degli africani, dei negri all'epoca, forti muscolarmente, con questo cranio molto grande, mani molto grandi, dunque mani molto grandi va bene fare lavori manuali, buon per saper fare le cose meccaniche più raffinate, testa molto grande dentro cui cose buffe totalmente sbagliate, dentro cui il cervello rimbalza, dunque meno capacità logico-cognitive, ci sono operazioni più adatte a sopportare il lavoro fisico e dunque queste razze dovranno lavorare e non usare l'intelletto, ci sono chiaramente razze diverse e la razza bianca è quella dotata di razziocini intelligenza che ha fatto sì che, razzismo darwiniano, la razza bianca domine le altre perché ha saputo maggiormente adattarsi ai tempi, cioè sa scegliere gli strumenti giusti per ottenere le soluzioni giuste, chi lo fa? il bianco, tutte cose scientificamente sbagliate a cui alcuni scienziati, medici, politici all'epoca credono, sino al nazismo questo è dominante, alcuni ci credono, ahimè ancora oggi quando parlano di razze, la razza è una sola, è quella umana, nasce dall'Africa, l'umanità e da lì poi si diffonde e poi esistono le differenze culturali, viva Dio siamo diversi, è chiaro, dunque il razzismo nutre queste interpretazioni, cioè l'uomo bianco deve andare a conquistare, a civilizzare e vi faccio alcuni esempi, un esempio di sostenitore dell'imperialismo, un sostenitore dell'imperialismo, una punizia culturale è uno scrittore importante di cui voi avete visto un film tratto dal cui libro è il libro della giungla, Kipling autore del libro della giungla, dell'avventura di Mugli, di Baghera eccetera eccetera, è un convinto sostenitore della supremazia della civiltà bianco occidentale, tant'è che in una sola celeberrima poesia in ode scriverà il fardello, ci parlerà del fardello dell'uomo bianco, l'uomo bianco ha un fardello sulle spalle, questo fardello si chiama la civilizzazione, deve portare nel giro per il mondo della civilizzazione ed è un fardello perché gli indiani, quelli dell'India, contro gli inglesi, lui è, lo sapete, un inglese ma di origini indiane e Kipling ci dice, noi arriviamo in India inglesi a portare la civilizzazione, la tecnica, la tecnologia, le strutture politiche ma non ci vogliono, non è detto che noi saremo accolti, perché chi porta la civiltà non sempre accolto con i tappeti rosi ma spesso è boicottato questo fardello e le guerre che dovremmo combattere. Noi adesso andiamo nel Sudafrica a portare la civilizzazione, no, agli Zulu e agli africani, ma non è detto che saremo accolti bene perché portare le strutture politiche, economiche a questi popoli può anche comportare dover fare delle guerre. Kipling, che in quel libro non sembra aver mostrato anche una grandezza verso l'infanzia, le racconti, le chiave per bambini di Kipling sono veramente molto belle e Bene Kipling è un sostenitore dell'imperialismo, a partire dall'idea i bianchi, gli occidentali, gli inglesi europei portano la civilizzazione, porteranno l'ABC della matematica, porteranno la medicina, porteranno il diritto alle leggi, bisogna civilizzare il mondo, uomo bianco è una missione da compiere. Kipling sostenitore, un nemico invece di questa posizione, ma anch'esso uno che sostiene che alla base ci sia il razzismo culturale è Conrad. Conrad, autore di Cuore di Tenebra, scrive questo libercolo in cui condanna duramente, duramente l'imperialismo. Conrad dice che dietro l'imperialismo c'è l'idea che un uomo bianco si consideri superiore, va a sottrarre risorse, va a conquistare il pianeta con l'idea di portare la civilizzazione e nel suo romanzo Cuore di Tenebra, che è ambientato in una nave che risale al fiume Congo, la cui trasposizione chiaramente letteraria cinematografica trova la massima rappresentazione in Apocalypse Now di Coppola con Marlon Brando, corrono in quel risalire il fiume Congo, va bene, verso la ricerca di un uomo che è sparito, Kurz, e ci fa vedere come nell'Africa nera nel cuore nero dell'Africa non alberghi in realtà il male, perché nell'Africa nera non c'è quel male che invece c'è nella Londra dell'epoca. Il cuore di Tenebra non è la foresta nera africana, il cuore pulsante maligno non è il Congo. Il male, le tenebre, l'immoralità sono a Londra. Il vero cuore di Tenebra è Londra, da cui partono gli ordini per la colonizzazione, la conquista, da cui parte la violenza, da cui parte l'idea di considerare poco più che delle scimmie o degli omuncoli gli abitanti di quelle terre. Ragazzi avete l'altra volta, venivano esposti nel... ecco, Expo Milano c'è stato, nell'esposizione universale di Parigi, fino a 800, vi erano, l'avevo detto l'altra volta, ok, i pigmei, gli zulu, le donne con le mammelle che allattavano i bimbi, vi erano le persone con i tatuaggi, vi erano tutti questi piercing, oggi diremo, che deformano il naso, i lobi delle orecchie, venivano esposti come degli animali. Trovavi gli animali e trovavi gli uomini di queste tribù o meglio razze. Conrad ci dice questo è il male e pulsa a Londra, non pulsa nell'Africa nera. Chiudo questa lezione andando un altro autore che sostiene che dietro ci sia un razzismo culturale, un'idea di supremazia culturale ed è molto critico di questo fenomeno che è Mark Twain, è un grande scrittore americano, l'autore di romanzi, di novelle, un americano da corte di Re Arturo, di suo, Oakbury Finne, di sui più femmini romanzi, alcuni di suoi principi romanzi. Mark Twain ci dice in maniera netta che cosa? Che quello che sta avvenendo in Africa, in modo particolare ad opera di Leopoldo II, il re del Belgio, poi l'imperatore dell'impero belga, è un massacro dettato dalla convinzione di supremazia culturale dell'uomo bianco. L'uomo bianco sta massacrando queste popolazioni con l'idea di essere il depositario di una cultura e di una moralità superiore e sta compiendo un massacro. Noi oggi sappiamo, ve l'ho detto la scorsa lezione, che probabilmente il primo genocidio della storia, cioè sterminare una razza o una tribù o una minoranza, in quanto tale prima degli armeni, prima degli ebrei c'è stato appunto il genocidio appunto del Belgio. Il primo genocidio della storia provvente da quello compiuto dal Belgio nel Congo. Nel Congo belga è avvenuto questo, con l'idea che sia una razza superiore, così come i turchi hanno eliminato gli armeni cristiani con miti di essere superiori come popolo, come razza, come cultura, come religione rispetto ad essi, così come hanno fatto i nazisti, come anche capra espiatori, rispetto agli ebrei, gli zingari, con miti di essere superiorità, di essere razza superiore, pura perfetta, così hanno fatto i belgi nel Congo. Dunque, prego. Ecco, buona domanda. Molti storici dell'America Latina sostengono questo, altri, ma proprio una di finestra tecnica, dicono, guardate, noi non usiamo l'espressione genocidio per gli amerindi e per i nativi d'America per questo motivo, perché gli spagnoli non li vogliono stermiare tutti in quanto razzo tribù, li stermino perché questi combattono e non ci stanno. Lo storico di casi per gli americani, nordamericani, se i Navaco, Cheyenne, Apaci avessero accettato di entrare a far parte del nuovo Stato americano, perdendo in parte la loro cultura, il loro modo di vivere o mantenendolo in minima parte, gli americani non li avrebbero sterminati, ma siccome dai Cheyenne ai Tomoka e gli Apaci hanno combattuto, gli americani li hanno sterminati. Dunque, una piccola differenza che non cambia il fatto che vengono sterminati, pensate, 70-80 milioni di amerindi tra guerre, malattie e violenze nelle miniere, 12 o 15 milioni di indiani, ma la differenza è che un Apaci, un Cheyenne, un amerindo poteva dire, guarda, io lavoro per te, bianco cowboys, io lavoro per te, spagnolo conquistadores, si potevano salvare. Un ebreo, uno zingaro, nel progetto nazista sono razze da eliminare, siano essi collaborazionisti, ci furono alcuni ebrei che rientrano di collaborare, siano essi nemici. Un ebreo, ovunque sia, qualunque carica politica abbia, ruolo economico abbia, condizione sociale viva, va estirpato come delle ortiche appunto dal giardino. Dunque, un ebreo non può mettersi in salvo, genocidio pianificato, uno zingaro non può mettersi in salvo, un Apaci, un Cheyenne o un amerindo poteva salvarsi.